I casi di West Nile registrati in Veneto sono aumentati, 380 contro i 321 della scorsa settimana. Due persone a causa del virus sono decedute, facendo salire il totale delle vittime a 17. Non si può far altro che raccomandare di proteggersi, consigliati i repellenti, ma prima fra tutte deve essere la collaborazione dei cittadini a fare il possibile per non concedere alle zanzare di proliferare. Quindi è necessario rendere loro l'habitat meno favorevole, eliminando i ristagni d'acqua e utilizzando larvicidi nelle caditoie delle proprietà private. I larvicidi, distribuiti gratuitamente all'ufficio del Verde a Chioggia, Palazzo Morari, sono attivi per una ventina di giorni. Nel caso in cui cadessero piogge abbondanti è necessario riprendere il trattamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!